Benvenuti alla Monster High. Non avrete mai visto una scuola simile al mondo. Ora scopriamo come tutto è iniziato. Quando gli umani si rivoltarono contro i mostri, entramo in clambestinità per non correre pericoli. Non pensi che sia un po' ingiusto che gli umani siano gli unici a essere considerati normani? Vi presento Draculaura e Frankenstein. Sarebbe bello avere amici e fare delle feste in un luogo in cui i mostri di ogni specie possano andare a scuola insieme. Potremmo semplicemente chiamarla Monster High. Davvero perfetto? Con l'aiuto di due amiche... Siamo decise a riunire i mostri del mondo. La Monster High divenne una scuola davvero all'avanguardia. Non preoccuparti, abbiamo tutte le comodità. Uno chef personale. Una massaggiatrice reale. Neanche un trono tempestato di rubini. Ma qualcuno cercò di ostacolarla. Monica di K, giusto? Chi vuole saperlo? Sono Draculaura e queste sono Clio, Claudine e Frankie. Tutti sono benvenuti alla Monster High. Si aggiunsero quindi nuovi amici. Laguna Ex-Tomonstrum! Amiche, salve! Sta succedendo davvero. I mostri stanno arrivando. I mostri stanno arrivando. La storia di come tutto ebbe inizio. Questo è il mio primo spettacolo mostruoso. Sono così felice di essere qui. Benvenuti alla Monster High. Siamo tutti molto simpatici. Siamo tutti. Siamo tutti. Siamo tutti.